La maglia dell'Argentina numero 10 di Diego Armando Maradona indossata durante i quarti di finale dei mondiali del 1986 in Messico contro l'Inghilterra finisce all'asta e la stessa maglia con il quale il pibe d'oro segnò la rete con la mano di Dios e quella successiva passata alla storia come gol del secolo. L'attuale proprietario è l'ex centrocampista inglese Steve Hodge che scambiò la propria divisa con quella di Maradona al termine del match vinto dall'Argentina per 2-1. Sotheby's ha fissato il prezzo di partenza a 4 milioni di sterline, oltre 5 milioni di euro. Grazie a tutti.